Forse bocconi avvelenati a Melito. Bella era una cagnolina randagia dolcissima, aveva partorito sei cuccioli. Era stata accudita da una volontaria dell'ASPA, Giulia De Simone, che era riuscita a dare in adozione i quattro cuccioli sopravvissuti ed aveva trovato una famiglia anche per lei. Martedì l'avrebbe portata presso il centro ASL di Monteforte Erpino per la sterilizzazione, dopodiché l'avrebbe affidata alla sua nuova famiglia. Ma nel frattempo è successo il peggio. Bella è stata trovata morta sull'asfalto all'ingresso del paese insieme a due gattini. Molto probabilmente sono stati avvelenati. Saranno gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico a stabilirlo. Inizialmente infatti le carcasse erano state rimosse dagli spazzini, ma presa la notizia la volontaria aveva chiesto l'intervento del veterinario dell'ASL, che constatata la situazione e i dubbi sul decesso, ne ha disposto il trasferimento a portici per la necroscopia. Grande dolore per Giulia che, così come fanno tanti altri volontari, quasi quotidianamente toglie dalla strada cani e cuccioli abbandonati, trovando sempre una soluzione di affinamento, spesso facendoli anche sterilizzare, evitando che finiscano nei canili e, diciamolo pure, facendo risparmiare molti soldi ai comuni che pagano per tenere i randaggi nel canile. Se l'avessi portata prima a sterilizzare, forse adesso Bella sarebbe ancora viva, dice con rammarico Giulia e aggiunge se c'è qualcuno ammelito dal cuore così duro da distribuire bocconi abbelenati, dovrà portarsi sulla coscienza la morte di questi animali.